Le modifiche al trasporto pubblico in questa edizione della Tg della Mobilità partiamo dal centro dove è in corso il secondo giorno di chiusura per via di Ripetta all'altezza di via Borghese e per via di Pallacorda all'altezza di via dei prefetti. Sono deviate su percorsi alternativi nove linee diurne, questa notte inoltre cambieranno itinerario tre notturne. A Roma Nord chiusa via dei Due Ponti all'altezza di via Oriolo Romano, in questo caso a cambiare itinerario è la linea 226 diretta a piazza Mancini. Infine a Sette Camini festa religiosa con chiusure al traffico tra via Rubeglia e piazza Santa Maria dell'Olivo. Fino a domenica saranno deviati i bus della linea 041.